Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram e vi ricordo che sono attiva anche su Facebook, vi lascio il link nell'info box. Detto questo, andiamoci dentro col video. Il caso di oggi non ha precedenti nella giustizia americana. Ma non vi colpirà soltanto per questo. La storia di Judy, ve l'assicuro, arriva dritta al cuore e lo scuote tra emozioni di rabbia e tristezza, di commozione e ammirazione. Judy Marinovski nasce il 26 agosto del 1983 e cresce nella città di Columbus, in Ohio. I suoi genitori si chiamano Bonnie Bowes e Thomas Ansel e Judy ha anche una sorella e un fratello minori, Daniel e Patrick. Judy vive un'infanzia sirena e felice, adora i suoi fratelli più piccoli e spesso si prende cura di loro. Col tempo la loro unione si intensifica sempre di più e si rapportano tra loro come migliori amici. La ragazza è anche molto legata a sua madre Bonnie, una donna che aveva affrontato diversi aborti prima di riuscire a rimanere incinta. Judy, la sua primogenita, si era infatti guadagnata l'appellativo di bambina miracolosa. Ecco uno dei motivi per cui madre e figlia condividono un affetto così speciale. A scuola fin da bambina Judy è davvero in gamba, viene già descritta come uno spirito libero, ma ha comunque tanti amici intorno a lei e sa come metterli di buon umore e farli sorridere. Al liceo Judy diventa una studentessa ancora più popolare. È una ragazza affascinante che vince numerosi concorsi di bellezza. Dopo essersi diplomata Judy inizia a studiare all'Ohio State University e sogna di diventare un'insegnante. Judy dice sempre a sua madre che vuole una vita semplice, serena e tranquilla. Come accennato ambisce a trovare un lavoro come insegnante, stabilirsi in un bel quartiere, trovare un marito che la ami e avere dei bambini. Nel frattempo Judy fa anche volontariato presso le case di cura, un'altra attività che rispecchia la sua attitudine ad aiutare gli altri. Tuttavia in questo periodo è lei che ha bisogno di tanto supporto, perché dopo una visita medica le viene diagnosticato un cancro alle ovaie. Judy è ancora così giovane, deve essere stata davvero una notizia terribile per lei. Ma si prepara a lottare con tutta se stessa per guarire. Affronta una battaglia certamente dura e difficile, ma alla fine riesce a liberarsi del cancro. Ora che sta bene la sua vita riprende a scorrere e uno dei suoi sogni si avvererà presto, perché convolerà nozze e metterà in mondo due bambine. All'età di 21 anni Judy incontra un ragazzo di nome Ron O'Brien. I due si innamorano all'istante, si sposano e danno alla luce Kaylin nel 2004 e poi Madison nel 2007. Dopo tutti i problemi di salute che ha subito è così grata di aver avuto due gravidanze sane e tranquille. Tuttavia per lei i dispiaceri non finiscono qui, perché mentre era incinta di Madison ha scoperto che il suo marito la tradisce. Questa nuova consapevolezza devasta completamente Judy, che dopo aver partorito sceglie di chiudere la relazione con Ron. In realtà alla fine entrambi di comune accordo decidono di divorziare. Purtroppo, in concomitanza con questo periodo turbolento, il cancro di Judy si rifa vivo e in una forma molto più aggressiva di prima. I medici le dicono che c'è solo una soluzione per liberarsene definitivamente, cioè sottoporsi a un'esterectomia completa. Judy accetta di affrontare questa operazione chirurgica, che si conclude con successo. La ragazza riesce a sconfiggere la malattia per la seconda volta. A questo punto Judy ha meno di 25 anni, ma sebbene l'intervento sia riuscito, soffre molto, quindi le vengono prescritti degli opioidi. Tra il 2007 e il 2008 la sua crisi è fuori controllo. I farmaci antidolorifici le sono stati prescritti in quantità eccessive e lei, come capita a molti pazienti, ha sviluppato una dipendenza. Man mano che le assumeva per placare quei dolori così acuti, il suo corpo aveva iniziato a sviluppare una tolleranza agli antidolorifici, quindi i dottori gli avevano indicato di raddoppiare le dosi, poi di triplicare. Così adesso, senza neanche rendersene conto, Judy si ritrova a essere dipendente dagli opioidi. Inoltre li sta assumendo da così tanto tempo che la sua assicurazione smette di coprire la spesa per questi farmaci, nonostante la prescrizione. Ma Judy non può permettersi di acquistarli ed entra in un tunnel oscuro imboccato da tante persone che vivono la sua difficoltà. Si ritrova a cercare delle sostanze stupefacenti per strada e in poco tempo sviluppa anche una dipendenza da una sostanza molto molto pesante, quella che si vede nel film Trainspotting, per capirci. La vita di Judy adesso si sta frantumando in mille pezzi. Le sostanze costano molto. Il suo rapporto con familiari e amici diventa teso e prendersi cura delle sue figlie è complicato dovendo gestire anche la dipendenza. Così la famiglia di Judy interviene. Anche se i loro rapporti non sono più come quelli di un tempo, proprio a causa della dipendenza, i suoi cari non l'abbandonano mai. Stabiliscono che la figlia maggiore di Judy, Kaylin, vada a vivere da nonna Bonnie, la mamma di Judy, mentre la piccola Madison viene affidata alle cure della zia Danielle, la sorella minore di Judy. La famiglia dunque fa del suo meglio per aiutare Judy in un momento così complicato e lei si rende conto che la sua dipendenza e le sue scelte impulsive stanno condizionando la vita delle figlie. Dopo questa presa di coscienza Judy torna in sé e decide autonomamente di andare in un centro di riabilitazione per disintossicarsi. Judy riesce nel suo intento, si riprende e da questo momento la sua vita cambia completamente. La dipendenza è sotto controllo, frequenta dei gruppi di sostegno per mantenersi pulita, trova un appartamento e un lavoro ed è di nuovo in grado di prendersi cura delle sue figlie che quindi tornano a vivere con lei e ristabiliscono il rapporto con la mamma. Inoltre anche le relazioni con amici e familiari migliorano. Dopo molto tempo finalmente Judy si sente libera, pronta a condurre quella vita tranquilla, pacifica e felice che tanto desiderava. Questa felicità farà parte di lei per diversi anni, fino a quando Judy, ormai 31enne, incontra un uomo di nome Michael Slager. Michael nasce il 27 giugno 1975, ma non sono disponibili informazioni sulla sua infanzia. È certo che nel 2014 all'età di 40 anni contatta Judy tramite Facebook. I due si conoscono già e sono già amici anche sul social, in quanto Michael era amico dell'ex marito di Judy. Michael quindi le manda un messaggio, le mette like a diversi post, insomma in un primo momento intensifica il suo approccio virtuale. Dopo un po' di tempo però Michael confessa a Judy che ha una cotta per lei. Non glielo aveva mai detto prima perché Judy era sposata, ma ora che lei è single, dopo tanti anni Michael ha deciso di liberarsi di questo segreto. D'ora in poi Michael rivolge a Judy molti complimenti. Le scrive che è bella, anzi meravigliosa. Le dice esattamente ciò che Judy vuole sentirsi dire e questo la porta a credere che lui sia l'uomo dei suoi sogni. Judy pensa che Michael le donerà una vita scandita dalla calma e dalla dolcezza, che lui l'amerà con tutto se stesso. Nell'aprile del 2015, dopo pochi mesi trascorsi a chattare, Judy cambia il suo status su Facebook. Ora è in una relazione con Michael Slager. La donna si lascia cullare dall'entusiasmo e dalle speranze, ma non sa che quest'uomo ha una lunga feddina penale, che ora esamineremo con la lente di ingrandimento. Anche se non conosciamo il passato di Michael, l'elenco dei suoi crimini commessi prima di conoscere Judy, di certo vi darà un'idea di lui. Michael Slager è stato condannato almeno nove volte per violenza domestica e aggressione, poi per minacce, minacce aggravate, falsa denuncia per violenza domestica. È anche un muore registrato. È stato accusato di violenza intima, ma poi è stato condannato per percosse a sfondo intimo. È stato pure condannato per resistenza all'arresto e per piccoli furti che hanno messo in pericolo la vita di alcuni bambini. Ma non è finita qui, la lista prosegue. Infatti, Michael Slager è stato condannato anche per condotta irregolare aggravata, stalking, furto con scasso, falsificazione di assegni e, infine, per aver interferito con la capacità di un pubblico ufficiale di svolgere i suoi legittimi doveri. Tutti questi reati evidenziano che Michael pensa di essere al di sopra della legge, che è un criminale e nello specifico anche un molestio e prolifico. Come appena detto, era stato condannato per violenza domestica ben nove volte. Insomma, quest'uomo è l'ultima persona con cui una donna potrebbe augurarsi di avere una relazione ed è incredibile che sia riuscito a nascondere a Judy tutte le macchie della sua fedina penale. Di certo, se Judy le avesse scoperte, sarebbe scappata lontano da lui il più velocemente possibile. Quando la relazione tra i due inizia a progredire, Bonnie, la madre di Judy, mostra chiaramente che Michael non le piace. Durante il primo incontro in famiglia, Bonnie dà una semplice occhiata a Michael e tanto le basta per convincersi che in lui ci sia qualcosa che non va, a cominciare dai suoi numerosi tatuaggi. Bonnie è preoccupata, non pensa che questa relazione possa contribuire a far star bene sua figlia, ma quando esprime le sue paure, Michael si camuffa da brava persona. In un'occasione dice alla suocera, Gesù non vorrebbe che tu mi giudicassi, così Bonnie si tira indietro. Questa frase di suo genero la fa riflettere, forse lei ha sbagliato a esprimere giudizi affrettati e duri. In fondo non lo conosce. Michael riesce così a insinuarsi nella famiglia di Judy e poco tempo dopo rivela la sua vera natura. Michael nel giro di poche settimane si trasferisce nell'appartamento della sua nuova fidanzata, senza nemmeno chiederle il permesso. Non discute con Judy dell'eventualità di vivere insieme, bensì un giorno si presenta davanti a casa sua con il proprio bagaglio. Judy in pratica non ha voce in capitolo. Come accennato, appena i due iniziano a convivere, Michael dà libera espressione alla sua personalità maniacalmente possessiva. Inizia a controllare ogni singolo elemento nella vita di Judy. Ad esempio non le permette mai di lasciare l'appartamento senza la propria autorizzazione. Judy può uscire solo in compagnia e in poco tempo Michael diventa anche fisicamente violento. Quando Michael scopre che Judy aveva grossi problemi di tossicodipendenza, pensa di poter sfruttare questa condizione a suo vantaggio. Judy aveva lottato tantissimo per riemergere dal vortice delle sostanze, ma Michael ora vuole rigettarcela dentro. Infatti si procura grandi quantità di quel tipo di opioide di cui Judy era dipendente e la incoraggia a usarlo. Forse qualcuno di voi si domanderà, ma perché Michael vuole che Judy sia di nuovo vittima di questa terribile dipendenza? Beh, le ragioni sono molteplici. Michael vuole che Judy si senta una pessima persona, una fallita e inoltre vuole renderla debole, vulnerabile e dipendente anche da lui, dato che ora è Michael che spende i propri soldi per comprarle la sostanza. Michael, al contrario, non ha alcun problema di dipendenza. Infatti nella sua fedina penale non risalta nessuna accusa o condanna né per possesso né tantomeno per vendita di sostanze. Judy, come è comprensibile nella sua situazione, ha una ricaduta e Michael ne approfitta per aizzare la sua famiglia contro di lei. Michael chiama Bonnie per lamentarsi di Judy e le dice, indovina, Judy ha avuto una ricaduta e torna a casa tutte le sere completamente fuori. Ormai è fuori controllo. Ovviamente Michael lascia pensare a Bonnie che sua figlia sia la sola artifice della propria recessione, quando in realtà era stato lui a spronarla. Ma Michael si dipinge come un brav uomo, anzi un santo. Lui sì che sta cercando di aiutare Judy in questo momento così difficile. In un'altra occasione Michael chiama Bonnie per dirle che Judy non era rientrata a casa la sera prima. Afferma di essere preoccupato per lei perché è sempre sotto l'effetto delle sostanze. Anzi, ogni giorno ne consuma un po' di più, quindi di nuovo è fuori controllo. Judy sta sperperando tutti i loro soldi in sostanze e non possono neanche più permettersi di pagare il cibo e le bollette. Bonnie, in reazione a queste sostanze, è terribilmente dispiaciuta per Michael. Decide infatti di dargli dei soldi affinché possano pagare il cibo e le bollette. Ma indovinate cosa fa Michael con il denaro ricevuto? Ebbene sì, va a comprare a Judy altre sostanze. Un'altra volta Michael chiama Bonnie e le dice che Judy aveva preso così tante sostanze da svenire sul pavimento. E lui non riesce nemmeno a svegliarla. Michael vuole insinuare in Bonnie l'avvilente sospetto che sua figlia sia andata in overdose. Infatti, durante la telefonata, la esorta a chiamare il 911. Potete immaginare la preoccupazione di una madre al pensiero che la figlia stia rischiando di perdere la vita. Bonnie si precipita a chiamare il 911 e i servizi di emergenza arrivano a casa di Judy sapendo che lei è in stato di overdose. Tuttavia, quando arrivano, notano che la ragazza sta bene. Sembra si sia ripresa completamente. Quindi, che senso ha avuto far contattare i servizi di emergenza fingendo che Judy stesse andando incontro alla morte? Beh, Michael ha interesse che quella chiamata e il conseguente intervento siano registrati nella cartella clinica di Judy. Questo proverà che i paramedici sono stati contattati perché lei stava riutilizzando le sostanze e, presumibilmente, aveva subito un overdose. Michael in pratica sta facendo di tutto per raffigurare Judy come il problema. La sta dipingendo come una tossicodipendente fuori controllo. Parallelamente, Michael è autore di episodi di violenza domestica esercitata contro Judy e adesso le sue aggressioni diventano più estreme. Michael mette le mani addosso a Judy per le ragioni più insignificanti e inutili e le ricopre il corpo di lividi. In un'occasione Michael le stringe una mano attorno al collo e rischia di soffocar la morte. Lei ormai è terrorizzata dal suo compagno ma trova il coraggio di chiamare la polizia per denunciarlo. E allora cosa succede? Purtroppo che non viene creduta. I detective che si occupano del suo caso nello scoprire che Judy è una tossicodipendente smettono di prendere sul serio le sue parole. Sono convinti che lei si stia inventando tutto, che Michael sia un bravo uomo intento a supportare la propria compagna affinché guarisca da questa brutta, brutta dipendenza. Secondo la polizia Judy è sotto l'effetto delle sostanze, dunque sta mentendo. Michael sta riuscendo a ottenere ciò che desidera. Infatti tutti ora pensano che Judy sia fuori di testa, che non ci si possa fidare di lei perché è una tossica e una bugiarda. Gli abusi continuano finché Judy telefona a sua madre Bonnie e la implora di aiutarla. Devono cacciare Michael da casa sua dove lui si era trasferito senza nemmeno chiederle l'autorizzazione. Non importa quante volte Judy chiede al compagno di lasciare il suo appartamento. Lui finge di non sentire. Anche Bonnie fa la stessa richiesta a Michael per proteggere sua figlia ma lui si limita a risponderle no, non me ne andrò da qui. Le autorità malinterpretano la situazione, non intervengono perché sono convinte che anche Bonnie menta per coprire sua figlia. Così entrambi si sentono completamente impotenti nei confronti di Michael. Sembra che l'unico obiettivo di questo individuo sia rovinare la vita di Judy. È chiaro che vuole dominarla ma proprio non capisco perché se si è accanito così. Visto che Judy non riesce a cacciarla da casa propria è lei ad allontanarsi da lui. Fugge dall'appartamento sempre più spesso. Non è chiaro in realtà dove le figlie di Judy si trovino nel frattempo. Forse la mamma le porta via con sé o forse stavano già vivendo con la nonna in un posto più sicuro. Judy si sposta tra la casa della propria madre o quella di altri parenti o ancora quelle di amici. Se nessuno la può ospitare passa la notte in un motel ma ogni volta che non rincasa Michael denuncia la sua scomparsa alla polizia. Gli agenti trovano sempre Judy e la riportano da lui. In un'occasione Judy si allontana con la macchina di Michael. Allora lui denuncia il furto dell'auto. Anche questa volta la polizia ritrova Judy adesso a bordo dell'auto rubata, la riporta a casa e la ammonisce. Quando gli agenti riconsegnano Judy nelle mani di Michael lui le ripete che la polizia è dalla sua parte e lei gli crede. Del resto quando Judy aveva denunciato Michael per violenza domestica non era stata presa sul serio. Michael le ribadisce che con lei non ha scampo perché lui può controllarla completamente. E la sua minaccia diventa ancora più estrema quando dice a Judy che se mai lei l'avesse lasciato lui l'avrebbe uccisa. Judy però non smette di lottare ed elabora un piano per raggiungere il suo scopo di allontanarsi da Michael, tornare al centro di riabilitazione. Prima di tutto ne ha bisogno visto che ha avuto una ricaduta. In secondo luogo quel posto può costituire un rifugio sicuro per lei. Judy ci spera. Se si ripulisce rimetterà in carreggiata la sua vita e non sarà più dipendente da Michael. Infatti in questo momento come sappiamo lei dipende da lui perché è sempre Michael che le procura le sostanze. Arriviamo al 2 agosto 2015. Sono trascorsi appena 4 mesi dall'inizio della relazione tra Michael e Judy e la situazione è già degenerata così tanto. Le due figlie di Judy vivono con la nonna Bonnie quindi sono al sicuro e la loro mamma sta per entrare in riabilitazione nel tentativo di dare una svolta a questa vita opprimente e pericolosa. Quella mattina in casa ci sono soltanto Judy e Michael. Lei mentre si prepara gli rivela che ha intenzione di recarsi in un centro di riabilitazione. Immagino che a questo punto starete pensando perché Judy gliel'ha detto? Perché non è semplicemente uscita di casa senza svelare i suoi piani a Michael? Vi ricordo che lui sa esercitare un notevole controllo su di lei e che non le consente di uscire di casa senza il suo permesso quindi Judy per lasciare l'appartamento deve ottenere l'autorizzazione di Michael. Judy in sostanza si trova obbligata a comunicare a Michael la sua decisione e sorprendentemente lui per una volta non protesta. Lei dice semplicemente ok ti accompagno io. Judy accetta il passaggio così la coppia sale in macchina per dirigersi verso Parkside Rehabilitation Center che si trova appena fuori da Columbus sempre in Ohio. Tuttavia durante il tragitto Judy cambia idea non si sente ancora pronta ad andare in riabilitazione o meglio vuole trascorrere prima un po' di tempo con la sua famiglia a salutare tutti e anche fermarsi per comprare un pacchetto di sigarette dato che le è permesso di portarle nel centro. Michael di nuovo accetta senza protestare quindi torna indietro per dirigersi verso una stazione di servizio della Speedway così Judy potrà comprare le sigarette che desidera. Lungo il percorso però la coppia litiga anche se non è noto l'argomento della discussione. Forse Michael sta cercando di comincere Judy a cambiare idea non vuole che lei vada a riabilitazione e si disintossichi infatti desidera che Judy continui a dipendere da lui. Sottolineo che questa è una mia supposizione si sa con certezza soltanto che la discussione è molto accesa. Appena i due arrivano a destinazione la litigata prosegue anche nel parcheggio. Judy stressata dalla presenza asfissiante di Michael corre fino al retro della stazione di servizio. Vuole prendersi un po' di tempo e di spazio per sé, ripararsi almeno per qualche minuto dall'uomo che la silla da ben quattro mesi. Tuttavia Michael non glielo permette. Invece di lasciare Judy un po' da sola risale sull'auto e guida fino al retro della stazione di servizio. Accosta accanto a lei e le chiede di tornare in macchina. Judy si rifiuta come mostrano le telecamere a circuito chiuso della stazione di servizio che riprendono tutta la scena. La litigata prosegue e Judy afferra una lattina di soda e la lancia addosso a Michael. Lui nel ritrovarsi con i vestiti bagnati manifesta un violento attacco di rabbia. Infuriato torna alla sua auto, tira fuori una tannica di benzina e si riavvicina a Judy. Le dice vedi cosa succede quando versi la tua lattina di soda su di me? Poi le rovescia la tannica di benzina sulla testa, inzuppandola completamente. Il liquido infiammabile investe Judy dalla testa ai piedi. Le penetra negli occhi, nelle orecchie, nell'interno del naso e della bocca. Judy avverte che sta per soffocare. La gola le brucia, non riesce a vedere bene ed è disorientata. Inciampa, cade a terra e inizia a urlare. Michael fermati, 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 perché stai facendo questo? Fermati! A lui non importa cosa Judy stia dicendo o come si senta, la sua unica intenzione è infliggerle quanta più sofferenza fisica possibile. Mentre Judy è ancora riversa sul suolo, Michael torna nella sua macchina per recuperare qualcosa. Meno di 30 secondi dopo è davanti a Judy con un accendino in mano. Lei comprensibilmente è davvero terrorizzata. Continua a ripetergli, Michael per favore, fermati, farò quello che vuoi, andrò dove vorrai, per favore, non farlo. Ma lui non l'ascolta, anzi, si china su di lei, usa l'accendino contro i suoi vestiti e il corpo della povera Judy va completamente in fiamme. Judy inizia a contorcersi, smaglia nel tentativo di spegnere il fuoco, ma non ci riesce. Ogni parte del suo corpo sta bruciando. Judy urla straziata per il dolore atroce e nella speranza di convincere Michael ad aiutarla, ma lui si limita a osservare le fiamme che la devastano. Judy sta provando una sofferenza indescrivibile. Le sembra che migliaia di lame roventi e affilatissime la stiano trafiggendo ovunque. Michael intanto continua a guardarla, la sua faccia è il ritratto della più bieca soddisfazione. Nella sua follia non gli importa nemmeno di aver compiuto questo spietato crimine alla luce del sole, presso una stazione di servizio dotata di telecamera a circuito chiuso e dove presto accorreranno numerosi testimoni. Ecco perché, dopo avervi dettagliato la fedina penale di Michael, ho affermato che lui pensa davvero di essere al di sopra della legge e di poter fare davvero quello che vuole. Mentre Judy continua a rotolarsi per terra, altri clienti della stazione di servizio si precipitano per cercare di aiutarla. Un ragazzo si avventa su Michael e gli grida contro. Allora lui, avvertendo questa pressione, recupera un estintore e spegne le fiamme che hanno continuato a ustionare il corpo di Judy. Diverse persone lì presenti chiamano il 911 e descrivono ciò che hanno appena visto. Un cittadino dice, dicono che c'è una donna in fiamme e che ha appena smesso di urlare. Un altro afferma, sono confuso, ho appena visto un uomo che ha dato fuoco a una donna. A seguito delle chiamate, i paramedici e la polizia arrivano alla stazione di servizio e, incredibilmente, Judy è ancora viva. Mentre i medici si occupano di lei, la polizia interroga Michael sull'accaduto perché lui non ha neanche tentato di fuggire. È ancora lì. Michael ha il coraggio di dire ai detective, oh è stato un grosso incidente. E ora sentite la follia. L'uomo spiega che Judy, nel fare il rifornimento, si era accidentalmente versata un po' di benzina addosso. Poi si era allontanata raggiungendo il retro della stazione di servizio per fumare una sigaretta. Ma, quando l'aveva accesa, si era data fuoco. Ovviamente la polizia non crede una sola parola fuori uscita dalla bocca di Michael, semplicemente perché una simile versione dei fatti non sta in piedi. La storia non è plausibile. Certo, fumare una sigaretta dopo aver maneggiato la benzina è pericoloso, ma è poco probabile che un incidente di questa portata si sia verificato accidentalmente, senza una serie di circostanze collegabili a un atto deliberato, cioè pianificato e intenzionale. Intanto Judy, per adesso sopravvissuta al massacro delle fiamme, viene portata ad urgenza nell'ospedale più vicino. I medici adesso devono fare del loro meglio affinché abbia davvero salva la vita. Anche Michael viene condotto in ospedale per un controllo, mentre la famiglia di Judy viene informata della tragedia. La polizia avverte i familiari, ma non spiega loro cosa è successo esattamente. Si limita a convocarli in ospedale perché Judy ha avuto un incidente. La madre e la sorella di Judy, Bonnie e Danielle, accorrono in ospedale e rimangono inorridite da ciò che vedono. Judy sembra una persona totalmente diversa. È irriconoscibile, in quanto ben il 95% del suo corpo è coperto di ustioni di terzo e quarto grado. La pelle è carbonizzata, non ha più i capelli, le orecchie sono bruciate, ha perso diverse dita e il suo viso è completamente sfigurato. Quando sua sorella Danielle si scontra con questa cruda realtà, scappa dalla camera sconvolta. I dottori riferiscono alla famiglia di Judy che alcune delle ustioni della ragazza sono così gravi che non hanno mai visto niente di simile. Intanto Judy è completamente sedata, non risponde agli stimoli e le sue possibilità di sopravvivenza sono quasi inesistenti. I dottori temono che non riuscirà a restare in vita per più di due ore. Mentre i medici tentano di tutto per salvarla, Michael, condotto anche lui in ospedale, viene interrogato. La polizia vuole sentirgli dire la verità, vuole che lui spieghi cosa è davvero successo. Nel frattempo infatti gli investigatori hanno ottenuto l'accesso al filmato delle telecamere a circuito chiuso, il quale immortala a Michael che rovescia la tannica di benzina addosso a Judy. Quindi sanno che la versione dei fatti da lui fornita è una completa cazzata, scusatemi il francese. Un detective dice a Michael testuali parole. Abbiamo visto esattamente cosa è successo. Hai sollevato la tannica di benzina sopra la sua testa. Lei è caduta a terra. Tu ti sei chinato su di lei e gli hai dato fuoco. Con questa consapevolezza Michael che fa cambia la sua versione della storia. Pur ribadendo che era stato solo un incidente, ammette che aveva litigato con Judy. Lei gli aveva versato addosso della soda e lui in risposta, ma in modo scherzoso, aveva deciso di non darla con la benzina. Dopodiché lei era andata ad accendersi una sigaretta e aveva preso fuoco. Voi vi rendete conto di quello che sta dicendo sto uomo? Una cosa mi chiedo, ma Michael chi pensa di prendere in giro? Dovete spiegarmi chi con i vestiti inzuppati di benzina avrebbe la geniale idea di accendersi una sigaretta? I detective a questo punto capiscono che la verità può provenire soltanto dalla bocca di Judy, ma ahimè lei è ancora sedata, ha malapena aggrappata la vita. Un detective allora parla con un dottore e nonostante sia estremamente rischioso stabiliscono di provare a svegliare Judy affinché possa confrontarsi con la polizia. Non sanno se il tentativo funzionerà, ma pensano che la velocità sia un fattore essenziale perché tutti credono che Judy non vivrà per più di qualche ora ancora. Non si sa neanche se Judy sarà in grado di sentire le domande dei detective perché le sue orecchie sono completamente bruciate e perché probabilmente la sua funzione cognitiva è stata compromessa. Di certo lei non può parlare, quindi un investigatore prepara delle domande la cui risposta può essere o un sì o un no, a cui Judy può alludere semplicemente muovendo la testa. Come per miracolo quando Judy si sveglia riesce a comprendere e a rispondere alle domande grazie a questo metodo. I detective dopo il confronto con lei hanno conferma dei loro sospetti. Michael le aveva arrovesciato addosso la benzina e le aveva dato fuoco. I medici invece continuano a prendersi cura di questa paziente e dalla resilienza sovrumana. Sopravviverà soltanto per poche ore, pensavano, ma poi queste ore si trasformano in giorni e i giorni diventano settimane e Judy continua a combattere. È ancora viva. I medici sono a dir poco sbalorditi dalla sua forza anche se certamente Judy versa in uno stato terribile. È coperta dalla testa i piedi di bende che devono essere cambiate due volte al giorno e queste medicazioni sono incredibilmente dolorose. Judy ora vive provando un dolore costante e atroce. La sua vita consiste tutta nel resistere a questa sofferenza pazzesca. Ogni movimento ha un'agonia. Judy fatica a respirare e presto le viene indotto il coma. La donna rimane incosciente per sette mesi. Durante questo periodo disperato Judy subisce 60 interventi chirurgici. Devono anche amputarle il braccio perché ahimè è bruciato fino all'osso. Nel frattempo Michael è rinchiuso in prigione in attesa del processo perché è stato accusato di incendio doloso e aggressione aggravata. Lui però continua a negare di aver dato fuoco a Judy. Probabilmente spera che lei non si risvegli mai dal coma e che quindi non sia in grado di testimoniare contro di lui al processo. In quell'unica volta in cui la polizia ha interrogato Judy lei comprensibilmente non è stata in grado di fornire risposte complete. Di conseguenza la sua testimonianza potrebbe non essere considerata affidabile dal tribunale. Tuttavia dopo sette mesi di coma Judy si risveglia dando un'altra dimostrazione sbalorditiva della sua forza. Ma non è finita qui perché la resilienza e la tenacia di Judy vanno oltre ogni immaginazione. Infatti lei vuole anche testimoniare al processo. La squadra dei difensori di Michael riconosce che se Judy sarà autorizzata a testimoniare al processo le cose per il loro assistito si complicheranno. L'accusa lo metterà sotto torchio. Ma anche se Judy dovesse morire a causa delle ferite riportate Michael rischia seriamente di affrontare un'accusa di omicidio. Durante il processo l'accusa potrebbe comunque avvalersi della testimonianza rilasciata da Judy come prova se i giudici lo permettono. Di conseguenza l'obiettivo della squadra di difesa di Michael è di agire a monte cercando in tutti i modi di impedire che Judy testimoni. Michael su suggerimento dei legali cambia quindi la sua dichiarazione da non colpevole a nessuna contestazione. In questo modo accetta comunque l'accusa ma non sarà sottoposto ad alcun processo. Gli verrà inflitta la pena massima per i reati di incendio doloso aggravato e aggressione e sarà così condannato a soli 11 anni di prigione. A Judy questi sviluppi spezzano il cuore. Tutto ciò che le rimane, tutto ciò per cui vive è la possibilità di avere giustizia. Era importante per lei far sentire la propria voce ma Michael ancora una volta la sta mettendo a tacere. Ma Judy non si arrende e giura che finché sarà in vita combatterà per ottenere giustizia. Judy inoltre sa che con la sua storia può aiutare altre vittime che hanno subito gli stessi soprusi. Per mesi viene supportata dalla sua famiglia mentre lancia una campagna che mira a cambiare il sistema di giustizia penale. Fa pressione affinché venga introdotta una nuova legge per estendere a 20 anni di prigione la pena massima da infliggere a chi sfigura intenzionalmente qualcuno. Michael ha fatto proprio questo ma Judy sa che ormai è troppo tardi per cambiare la sua condanna. Tuttavia lotta per ogni altra vittima di questo orrendo crimine e di altri reati di violenza domestica periferici. Judy registra anche dei messaggi direttamente dal letto d'ospedale. La forza di questa donna mi lascia senza parole. Judy sopravvive in bilico tra le crisi e il dolore costante che sopporta in ogni singolo momento della sua giornata. Eppure è lì in prima fila a combattere per la sua vita ma si batte anche per gli altri per introdurre una pena più severa. La sua generosità davvero mi emoziona. Mi fa pensare che non bisogna mai lasciarsi andare se non lo ha fatto Judy in queste terribili condizioni. Una buona notizia è che la battaglia di Judy non è inutile perché nella primavera del 2017 in Ohio viene approvata una nuova legge chiamata proprio la legge di Judy. La normativa introduce tutti i cambiamenti che la donna aveva richiesto e viene promulgata in presenza delle sue due figlie. Purtroppo però dobbiamo fare un piccolo passo indietro per parlare di una cattiva notizia perché da gennaio del 2017 dopo un anno e mezzo di resistenza la salute di Judy prende una drastica svolta al ribasso. Stavolta sembra certo che non riuscirà a sopravvivere ancora a lungo. I pubblici ministeri intuiscono che il tribunale dovrà presto affrontare un caso di omicidio e Judy vuole essere ascoltata, vuole testimoniare al processo contro Michael che con le sue azioni la sta uccidendo lentamente. Come immaginerete anche voi affinché abbia luogo un processo per omicidio la vittima deve risultare già deceduta. Infatti fino a questo momento nella storia giuridica degli Stati Uniti non si è mai verificato un caso del genere ma stiamo parlando di Judy che è una combattente testarda. Anche i pubblici ministeri vogliono che lei testimoni e approfondiscono il sistema giudiziario per accertarsi di rendere la sua testimonianza ammissibile. Decidono di darle l'opportunità di registrare un video testimonianza da riprodurre qualora lei non riuscisse a sopravvivere durante il futuro processo di omicidio contro Michael. Judy accetta immediatamente ma c'è una condizione terribile che deve rispettare affinché la sua testimonianza sia valida. Non può assumere alcun farmaco prima di registrarla. Come potete immaginare considerando le condizioni di salute di Judy lei assume dei potenti antidolorifici tutti i giorni più volte al giorno. Tuttavia a causa della sua dipendenza e soprattutto per garantire che le sue funzioni cognitive e cerebrali non siano alterate Judy deve sospendere tutti gli opioidi. Pensate che questa donna pur avendo assunto fino a ora gli antidolorifici riesce a sostenere il dolore a malapena. Dunque come potrebbe mai resistere a questo strazio? Ebbene di nuovo Judy si dimostra una forza della natura. Mi impressiona anche solo immaginare quanto dolore abbia dovuto sopportare evitando di assumere tutti i farmaci. Inoltre Judy non può limitarsi a sospendere gli antidolorifici solo per qualche giorno prima della sua testimonianza. Bisogna che il suo organismo rimanga pulito in vista di alcuni esami specifici i quali servono proprio per accertare che in lei non ci sia alcuna traccia dei farmaci. Se i risultati indicheranno anche la più piccola quantità di antidolorifici nell'organismo di Judy la difesa di Michael ne approfitterà per sostenere che lei non è attendibile a fornire delle prove. Judy come già vi ho detto accetta comunque. Sceglie di combattere contro il dolore quindi trascorre delle intere settimane senza assumere medicinali subendo anche un'importante crisi di astinenza. La donna stringe i denti e quando i medici giudicano la sua condizione stabile è pronta per far sentire la sua versione della storia. Siamo ancora all'inizio del 2017 quando Judy deve rilasciare la propria deposizione e Michael pretende di stare nella stanza insieme a lei perché a suo dire vanta il diritto di ascoltare e affrontare la persona che vuole accusarlo di essere un assassino. Il giudice però intuisce che questa è puramente una tattica intimidatoria dunque la richiesta di Michael viene respinta. Mentre Judy effettua la videochiamata per deporre accanto a lei c'è soltanto un team di infermiere infatti a nessuno dei suoi familiari è stato permesso di presenziare. Judy verrà interrogata da un avvocato dell'accusa per fornire la sua testimonianza ma non solo verrà anche sottoposta a un contro interrogatorio da uno degli avvocati di Michael. La testimonianza di Judy inizia. Eccola che presta giuramento e lasciate che vi dica che reputo straordinario che sia pronta a raccontare la sua versione della storia. Non possiamo dimenticare che soprattutto in questo momento Judy sta soffrendo moltissimo. Per quanto mi riguarda il suo atto di caparbietà è molto commovente. Judy ha la forza e la lucidità di ripercorrere gli eventi che si sono susseguiti il giorno in cui il suo ex fidanzato le ha dato fuoco. Rivivere con la mente un episodio così tragico deve essere stato traumatico per Judy. Lei spiega in che modo Michael le aveva gettato volontariamente la benzina addosso. Afferma di ricordare ancora la sensazione avvertita nell'avere la gola in fiamme. Judy descrive anche come ci si sente a essere bruciati vivi e vuole che sia ben chiaro che non si era trattato di un incidente. Michael aveva agito con l'intenzione di provocarle una simile sofferenza. Appena Judy conclude la sua testimonianza deve essere sottoposta al già menzionato contro interrogatorio. L'avvocato della controparte le chiede se è vero che aveva fatto uso di sostanze stupefacenti fin da marzo del 2015 e Judy conferma. L'avvocato allora le chiede se avesse mai rubato dei soldi a Michael. Judy nega ma l'avvocato le ripete la stessa domanda. Allora Judy nega ancora. L'avvocato poi passa un'altra domanda le chiede se è vero che la polizia era intervenuta nel maggio del 2015 a causa di una sua chiamata. Judy spiega che Michael l'aveva minacciata di morte quindi aveva chiesto aiuto alla polizia ma i detective non le avevano creduto. Judy conclude la frase dicendo proprio e dato che non mi hanno creduta eccomi qui questa ora è la condizione in cui vivo la potete vedere tutti chiaramente giusto? L'avvocato prova in tutti i modi a far apparire Judy come una testimona inaffidabile. Arriva addirittura a chiederle se avesse provocato Michael spingendolo a darle fuoco. E soprattutto il difensore di Michael chiede a Judy perché non fosse fuggita visto che il gesto del suo ex compagno era stato intenzionale. Ora non voglio mettere in dubbio la professionalità di questo avvocato ma questa domanda mi lascia alquanto perplessa. Allora Judy come poteva prevedere che Michael le avrebbe dato fuoco? Converrete con me che non è di certo una reazione che tutti manifestano nei momenti di rabbia piuttosto è una reazione estrema e fuori da ogni logica. Inoltre nessuna offesa può suggerire alla persona a cui è rivolta di rispondere inondando l'altra con la benzina per poi darle fuoco. L'avvocato insinua anche che il trauma subito da Judy abbia compromesso le sue capacità di ricordare gli eventi con precisione. Judy però risponde. Riesco a ricordare l'evento? Sono i dettagli che fatico a rievocare. Dovete capire che il 2 agosto mi hanno dato fuoco mentre ero a terra. Si è bruciato il 95% del mio corpo. È difficile per me tenere traccia di tutto quello che mi è successo. Judy anche durante il controinterrogatorio dimostra forza e soprattutto determinazione. Risponde a tutte le domande e non si tira mai indietro. Ha finalmente ottenuto quello che voleva. La sua voce è stata ascoltata. Le sue amate bambine potranno trarre da lei un grande esempio. E forse ora Judy si sente libera di riposare sapendo che la sua testimonianza verrà usata contro Michael nel suo processo per omicidio. purtroppo nel giugno del 2017 dopo quasi due anni di lotta quotidiana Judy prende la decisione di spostarsi in uno hospice care un tipo di struttura che assiste i malati terminali dal punto di vista medico e spirituale. Il 27 giugno del 2017 a distanza di 696 giorni dall'aggressione Judy lascia questo mondo mentre lei è accanto sua mamma Bonnie. Judy aveva soltanto 33 anni due figlie piccole e avrebbe avuto mille chance di riprendere in mano le redini della sua vita se non si fosse imbattuta in Michael. Come già accennato un mese prima della sua morte la legge di Judy viene approvata nello stato dell'Ohio. Questo caso, come verrete con me, è straziante e anche commovente. Judy aveva superato così tante prove nella sua vita. La considero una delle persone più forti e coraggiose di cui ho mai approfondito la storia. Poco più di un anno dopo, nel luglio del 2018, Michael viene finalmente processato per l'omicidio di Judy e ha ancora intenzione di dichiararsi non colpevole. Tuttavia, in un'udienza preliminare, la testimonianza di Judy viene proiettata in aula. Dopodiché, l'avvocato di Michael gli consiglia di accettare un patteggiamento per evitare la pena di morte. L'imputato segue il suo suggerimento, si dichiara colpevole e viene condannato all'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale. Inoltre, pensate un po', emerge che questa pena rispecchia in pieno la volontà di Judy. Lei voleva proprio che Michael ricevesse l'ergastolo, non la pena di morte, che secondo lei sarebbe stata una scappatoia troppo facile. Judy sperava che Michael rimanesse dietro le sbarre a riflettere su ciò che lei aveva fatto per il resto della sua vita. Durante l'udienza di condanna di Michael, la testimonianza di Judy viene trasmessa di nuovo. La famiglia di Judy ha creato una fondazione che porta il suo nome, appunto Judy's, e che fornisce assistenza alle vittime di violenza domestica e alle persone affette da una dipendenza. La fondazione fa anche pressione affinché la legge di Judy venga estesa a livello federale e non solo statale. Io spero davvero che la famiglia di Judy stia bene, che le sue figlie stiano bene, in salute e felici. Proprio Judy, prima di morire, aveva fatto una calda raccomandazione alla madre, dicendole, mamma, devi insegnare alle bambine ad avere successo. Niente balli fino alla terza media, voglio che passino poco tempo al cellulare e che vadano al college. Soprattutto voglio che sappiano che sono tanto amate. Concludo questo video spendendo le mie ultime parole per la protagonista del caso di oggi, una donna resiliente e coraggiosa. Judy Malinowski è stata descritta dai suoi familiari e amici come una persona dolce, premurosa e amorevole. La sua passione e il suo amore per le persone facevano sentire speciali coloro che la conoscevano. Era uno spirito libero, una donna intelligente, antiponeva sempre i bisogni degli altri ai suoi e l'ha fatto fino alla fine dei suoi giorni. Judy, oltre che una donna intrepida, era anche una madre che adorava le sue figlie più di ogni altra cosa al mondo. Avrebbe voluto passare la vita a prendersi cura di loro, ma purtroppo è stata ferocemente assassinata all'età di soli 33 anni. E questo ci porta alla fine di questo video. Non è stato facile registrare questo video perché per me questa storia è davvero molto emozionante e mi tocca davvero tantissimo. Questo caso mi ha stupita tanto, mi ha anche addolorata tantissimo e sono curiosa di sapere qual è la vostra opinione. Quindi fatemi sapere le vostre idee, cosa pensate di questo caso, se conoscevate questo caso qui sotto nei commenti. Io nel frattempo vi mando un bacione e noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti!